Ehi ragazzi, io sono Feriniki E io sono Stef, e questo giochiamo a Dark Hill Museum of Death Quindi in poche parole, il museo della morte Detto così sembra un po' drastico, però in realtà il gioco ha una grafica carina Praticamente andiamo in un museo dove si erano tanti modi in cui nella storia venivano uccise le persone Bello! A Ferre piace, va? Bello! Consolini lo so, siete un po' timorosi Però vi garantisco che è carino Allora, vi faccio subito vedere la grafica così vi togliete tutte le preoccupazioni Secondo me è fatto davvero bene Come potete vedere graficamente è molto cartoon, non c'è nulla di che, non fa paura Qua abbiamo la serie elettrica La serie elettrica Qua abbiamo il classico mozza test Proprio versione spartana Poi quando si sono evoluti la ghigliottina pianta Esatto, esatto, perché qua abbiamo migliorato la tecnologia Poi qua il sparare le persone, capito? Vabbè, questi infatti sono chiaramente scenari di varie guerre Esatto, poi l'impicare E non... Qua c'è... perché è un gioco che si rompi i capi Quindi praticamente noi siamo in una parte del museo Che c'è? Dicendo un sacco di cose Qui c'è questo E perché sono... Allora, cos'è il gioco? Rispiega da capo Sono la guida turistica del museo E ma fai schifo E infatti non c'è nessuno Non è un cliente Non è un cliente da 30 anni Nessuno vuole vedere queste robe brutte Sono tristiche Allora, da quello che mi sembra di capire Vedendo anche quella combinazione lì in fondo Che noi dobbiamo uscire da questo museo Quindi noi stiamo... No, no, stiamo esplorando No, stiamo esplorando il museo Stiamo esplorando il museo E ci sono i rompi i capi Da questo tuo museo No, non dobbiamo scappare È bello Allora Luis sedicesimo Luis sedicesimo Sicuramente re di Francia Cosa del genere Vero? Sì, French King Blah 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 Quando è morto? È morto 1793 Behated Quindi penso che gli abbiano tagliato la testa, no? Tomorrow than a thousand years Ok Sì, dovrebbe essere 1000 Settecento Quindi qua dobbiamo mettere Mille C'era già l'uno stavo Stavo cercando di imparare i comandi Mille Settecento Dovissolo cliccare Novantatré Sì E dovevo scoprirlo Ok E vedi E così si va da un'altra parte Ma noi prima di andare da un'altra parte Vogliamo vedere un po' di roba Io volevo vedere qui teschi Che sono qui teschi? Però comunque raga Uh, dai, è bello Eh, è un bel museo E la gente non viene, Fer Perché lo pubblicizzo male Guarda che belli anche i post Allora Allora Cos'è questa roba? Ah, qui dobbiamo Vedi? Prova a premere questo Stef, in questo dovremmo essere bravi Abbiamo fatto un sacco di rompicapi strani Però qual è l'obiettivo? Riuscire a far girare Non lo so, non lo so Secondo me dobbiamo lasciarlo perdere per ora Non abbiamo troppi Forse ci manca un tasto e basta Dobbiamo trovare il tasto Può essere Quindi non abbiamo altri indizi Che ci facciano capire Può essere Però poi abbiamo anche questo Eh, c'è molto di roba Forse dobbiamo farli tutti verdi Ok, sì Questo è tutti verdi Fatto Bellino Bellino Si è aperto quello L'ho notato Che sicuramente Ah, ogni cosa Ti può dare un gettone Vedi che anche qua c'è questo Ed è chiuso E poi c'è questo Eh, questo chissà Forse probabilmente Dei mettere i teschi Con i colori che combaciano Mi sembra la cosa più logica, no? Proviamo È una sorta di cubo di Rubik Però ho fatto con i teschi E con dei dischi Più o meno Allora, non può essere così Ma cos'è impossibile? Eh, questo è un bel casino Eh sì Potrei fare così Devo partire da un punto Secondo me, vero? E poi continuare Guarda Pa 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 Però lì non ci siamo Ah Però ci siamo qua Peccato Anche qua Qua no Sono difficilissime ste robe Come faccio? Non lo so Il centrale decide tutto Secondo me Sì Tipo io dovrei Magari provare Una combinazione In cui Con il giallo Combaccia anche questo Questo edificio Lasciamola dopo Esatto Andiamo avanti? Andiamo nella stanza delle piramidi Andiamo nella stanza delle piramidi È bellino Molto Però Questi rompicapi Alcuni sono sempre Le piace il mio museo Le piace Allora Steph non c'è bisogno Ti prego Dai No, l'impero alsteco Non lo so Questo è bello Ma io sono una guida turistica Non importa Non vogliamo leggere Nell'antico impero Tanto non sei l'inglese E non sei l'italiano Quindi c'è l'impero centauro No, non so se sei un centauro Sei uno stef Ok Ed è per questo che tutti ti compatiamo Uffa Ok Ma questo ti interessa invece? Era la pietra sacrificale Sì Dove qua Davi sacrifici probabilmente di animali O anche umani Alle divinità Capito? Questo è ad esempio un disegno antico di fere Non sta andando bene Questa nostra visita al museo Steph Non sta andando per niente bene No, tranquilla Tranquilla Come fai a rovesciare il tavolo? Ah Ok Eh però Diceva tilt Non conosco sto gioco Capisci? Ok Dobbiamo toccare tutte le torri Ok Opla L'importante è essere delicato È bellino come museo Cioè abbiamo anche le attrazioni Per i bambini Eppure non vengono Non capisco come mai No È difficile qua Eh? Oh Qua Bravo Dai ne mancano due Stendendo bene Dai perché? Deve andare proprio pienissimissimo Secondo me Ok 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 Proviamo a fare questa Ok Ok È andata È difficile poi ritornare di sopra E riuscire a fare tutti gli altri Capito? Ah ah Vai Steph E tu ti dai E guardi Ok Ma ti emozioni troppo Sbagli Vai Porta Ok 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 Carino Carina sta roba Ce la siamo conquistati Ok allora Qui ne abbiamo Qui dentro Ci sarà un altro rompicapo Uh Qua c'è roba Uh Vabbè roba cattiva Mamma mia Eh ho sicuro Mmm Questo l'abbiamo visto Lo skull rack Sì vabbè Probabilmente ci sta soltanto spiegando Cosa stiamo vedendo Ho capito Mi sta interessando Sì bello questo Sì Ma dai Ma è orribile Sicuramente Se tu vai a leggere la descrizione Gli avevano fatto Ui Zilopo Tilli Ui Ti dicevo che se vai a leggere la descrizione Ma io non vado a leggere Sicuramente gli hanno fatto qualche Qualche dispetto molto grave Steph Per aver fatto quella fine Allora Ci manca una location Sì Ok Ed è per colpa dei teschi Se noi non riusciamo a risolvere i teschi Non vediamo l'altra location Che è molto carina Ah no Non possiamo Eh la ghigliottina Sembra che Ma secondo me Abbiamo capito noi qualcosa Verrà Sembra una sorta di tris Di dama Di dama Aspetta 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 Ferma Ho capito Sì Anzi Però non ho capito Che forma dobbiamo ottenere Dobbiamo farle mangiare tutte Secondo me Quindi ho appena perso Giusto Questa forse la puoi mangiare Sì brava Figata Ok Ah abbiamo perso Ok abbiamo capito È una sorta di dama Sì Ok Sì 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 Ci siamo Il nostro obiettivo Secondo me È già togliere questo Non ti devi mai allontanare troppo Quello il senso Capito Comunque questo fai così Eh no Ci allontaniamo di nuovo No no Ta Ta Non puoi Devi stare vicino Steph Dama Non sta andando male No Ta Ta E lo fai Sì vai 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 Ta Ta Yes Ce l'abbiamo fatta Ok prendi A posto Ci manca quello Ci manca quello Che è difficilissimo Dai ce la possiamo fare però Allora Rosso Bianco Verde Nero Blu Giallo Questi riusciamo a farli corrispondere Ma poi non corrisponde Qua blu con bianco Allora Proviamo a far corrispondere Questi qua Se corrispondono questi Ah Mi sta intrippando Allora giusto 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 Sbagliato Ma poi vedi che non sono mai giusti Cioè quello Difficilissimo È difficilissimo È davvero 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 Difficile Allora Dunque tecnicamente Se le Cioè sono sei Proviamo a girarlo sei volte Prima o poi la troveremo No Sono molte di più Mi sa che sono 81 Dici Così tante combinazioni Tante Tante Perché poi pian piano giri questi Finché non li fai combaciare No Perché poi non combaciano tra di loro È sempre quello E li giri finché non lo ottieni No Vedi Quindi poi tu fai così Tu fai così Però poi qua non combaccia Allora devi prendere e ricambiare tutto È troppo difficile Eh ma è qui la stanza Capito È per quello che non viene la gente È qui la stanza Accidenti Steph È qui Ci siamo arresi Stiamo guardando la soluzione Raga perché Era davvero 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 No c'eravamo un bozzo Troppo difficile Allora Bisogna essere onesti Ok Ed ecco L'altra parte del museo Guardi che bello Guardi che bello Abbiamo un sacco di belle grombine Carino Quello vai a notare Ok Cremazione Il nuovo vinello Altra porta Ma è lunghissimo Questo museo Puzzle Facciamo il puzzle Allora c'è altro Sembra di nuovo Sono tutti tipi di tombe O comunque di Catacombe E cose del genere Un posto allegro Cripte Così via È sempre allegro Allora facciamo il puzzle Sì Vabbè questo è facile No Allora qua è giusto Questo pezzetto è giusto Penso che sia più centrale Come funziona Ok Eh Sì Una roba del genere Dici Ma non abbiamo un'immagine No Steph Una immagine Di riferimento Mmm Non è caso Totalmente Perché Capisci Perché ci sono due teschi Steph Questa è la fronte di un altro Ah Ok Brava Anzi tre teschi Perché poi c'è anche quello di colore più chiaro Hai ragione Molto brava Lei è proprio brava Vedi Sì Ok Non so se sarà la posizione giusta Però dai almeno Ma piano piano noi facciamo i volti No Però ho sbagliato dove cliccare Tipo così No Sembra forse di questo Sì Ok No E che chissà dove esce l'identità Ok 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 A questo punto Questo è di questo E poi anche questo Mi sa che di questo Qual è questo? No 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 E allora Neanche No 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 C'è un pezzo di cranio Quindi bisogna cercare quello Eeeh No No Non ci siamo Questo forse No No Cavolo Ti ripeto Ti ripeto È difficile Senza l'immagine Perché tu non sai Questo tecnicamente potrebbe stare anche qui Tutto a sinistra Tutto a destra Come fai a capirlo Neanche Ok Però magari abbiamo un'immagine a qualche parte Stiamo al volo a vedere no? Certo Però secondo me no eh Perché non mi sembra impossibile Ok 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 Niente No niente Bellino Allora Eeeh Quindi Se trovassimo quel pezzo Anche qui nella sua faccia C'è Forse tipo Questo Si Molto bene Steph Molto bene Steph Molto 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 bene A questo punto Perché noi questo lo possiamo Per esempio Spostare qua per ora Ok Però vedi guarda Quindi questa va tutto qua Si C'è l'inizio dell'altro teschio Allora spostiamo tutto no? Si L'altro sta prendendo malissimo Si lo so tranquilla Ok Ok Questo via per ora Mettiamoli la parte di sotto Questa Questa Questo Questo Ok Più giù Questo Questo Stiamo andando bene Quello è lì Questo Questo chiaramente non sta qui Le parti chiare Le parti più chiare forse Non si capisce Però hai trovato questo nel frattempo Si E' vero Allora queste due sono qua Tipo qua E sopra Bravissima Mantela parte in alto No 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 Quello sembra un altro teschio Vedi? Si Provole un po' tutte Forse questa addirittura Si Ok ci manca questo Che tecnicamente Però poi dove sta l'altro teschio? E allora sai che? Questa è la parte di sotto Mi sa Quale? Questa Vanno sotto I teschi Gli altri stanno sopra Non lo so Dici? Eh ti ripeto Senza immagine di riferimento È tosta Devi andare molto a casaccio No ma più che altro Non troviamo Prima di tutto L'immagine che collega qua Esatto Proviamo a cercare quella Vedi non c'è Ah eccola E poi sopra c'è l'altro teschio Si avevamo ragione Quindi dovrei invertire tutto? Si T'avevo detto che senza immagine di riferimento Non capisci che devi fare Ok però ci stiamo arrivando Steph hai sbagliato Qui non ti confondere Perché sono poi Grazie cara Ci incasiniamo con i pezzi Ok vai Perché intanto non prende bene il click Eh ho notato No vedi è sbagliato Era questa Vedi? Si Questa e questa Ok Che sfiga che abbiamo avuto però eh No eh Steph Devi andare a tentativi Quando non sai minimamente che cos'è Devi andare a tentativi Ok Che adesso manca la parte di sopra L'abbiamo fatto No Questi chiaramente A posto Yeah Woo Halloween Halloween Cara mi c'è questa cosa cos'è? Questa incatenata Che ci dice la descrizione? The afterlife Guarda Basta risolvere l'ultimo E abbiamo finito Che carini Che poi non è Halloween Cioè più o meno è la giornata di morti Anche esatto Perché comunque anche C'è un po' tutto Anche Halloween è una festività Che riguarda Risolvessimo questo Avremmo finito Allora Ok Sono molto confuso Ho capito tutto Steph Tutto molto chiaro Capito No Hai questa quantitativa di mosse Per fare cosa però Bello Bellino sto gioco eh What? Ma aspetta aspetta Leggi i cartelli Steph Se siamo morti Eravamo dei fantasmi Per quello non c'era nessuno No È nel museo che non viene mai nessuno No Steph Siamo morti Not your time Che è sta roba C'è qualcosa da risolvere Steph Vero Tipo in quel libro Tipo in quel libro Eh mi sono dimenticata E mi sono dimenticata tutto Fammi rivedere il libro Vedi Vedi secondo me le pagine sono così Quindi sinistra Destra Centro Destra Proviamo Sinistra Destra Sinistra Destra Avremmo capito bene Ok E ora? Siamo fuori Siamo nel terrazzo Ma io te l'ho detto Steph Che siamo morti pure noi Vedi che siamo morti Cosa sta succedendo? Finita Grazie A game by Dan Rusko Bravo Dan Mi è piaciuto sto gioco Mi è piaciuto Molto carino Breve ovviamente Però ben fatto Mi è piaciuto Ben curato nei dettagli Bella la grafica È molto carino Il rompicap Molto molto carino Mettiamo Cercherò di ricordarmi Link in descrizione Perché tanto il gioco Potete giocare tranquillamente Gratuitamente È davvero bellino Si fissi a 22 minuti Uno dei giochi che mi è piaciuto Di più di questo genere Da un bel po' di tempo Quindi Molto contento Molto soddisfatto Lasciate un po' di like Se vi è piaciuto il gioco E qua sotto Compariranno di sicuro Altri video Iscrivetevi al canale Se non avete ancora fatto Cliccate caparellino E ci fermiamo Così Ciao ciao